Riportare alla luce un capolavoro di importanza storica e architettonica, una delle chiese più antiche di Napoli, quella di Santa Maria Piazza che si trova in piazzetta Forcella. E' questa la sfida lanciata dall'Arcivescovo Metropolità di Napoli, il Cardinale Crescenzo Sepe, ai rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli nel corso della benedizione della nuova sede all'interno di Palazzo Partanna di Piazza dei Martiri. Da anni l'Ordine si impegna, al fianco della Curia Partenopea, alla riapertura al culto e alle attività socio-culturali di molti edifici della città, come ad esempio la Basilica di San Giovanni Maggiore. All'inaugurazione della sede rappresenta anche una delegazione dell'Ordine degli Architetti con il Presidente Leonardo Di Mauro. L'Arcivescovo è stato accorto dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, dal Consiglio Direttivo e dagli iscritti. Avremo anche dei percorsi di accompagnamento della Curia in problemi di ingegneria e architettura che speriamo di poter fare in comune. Abbiamo questo tesoro che diversamente andrebbe perso oppure pericoloso perché è un segno di quella solidarietà per cui ognuno nella sua professionalità può dire io posso dare un mio contributo per la conservazione che poi è per il bene comune, per il bene di tutti. E quindi quando si trova una disponibilità, un'apertura a contribuire, a realizzare questo bene, allora ci sentiamo veramente tutti più realizzati come uomini, come professionisti e anche come credenti.